Bentornati ragazzi e ancora una volta qui sul canale per un nuovo video e oggi amici miei torniamo a parlare di gadget Torniamo a parlare di gadget tech grazie alla nostra serie dipendenza da gadget E mi raccomando so bene che diciamo approvate particolarmente questa serie quindi sapete bene cosa fare per continuare a sopportarla E per continuare a vedere video del genere quindi non perdiamoci in troppe ghiacchie perché appunto lo sapete cosa fare Se voi ti beverò pure su Instagram perché male non fa Detto questo iniziamo e partiamo col dire grazie mille a MedStore che non solo mi ha fornito tre dei prodotti che andiamo a realizzare oggi Ma ha anche deciso di sponsorizzare questo video e soprattutto regalarvi un codice sconto del 20% per l'acquisto di due dei prodotti che vedete qui sopra Cioè in questo video, qui sopra dove, in questo video E quindi date un'occhiata alla descrizione perché trovate anche il link per accedere al loro sito dove appunto potete trovare diverse soluzioni interessanti Poi MedStore è un Apple Premium Reseller quindi potete affidarvi a loro anche per l'acquisto di Mac, MacBook, Mac Mini, iMac, iPhone, Apple Watch, di tutto Quindi dategli un'occhiata perché spesso ci sono offerte veramente interessantissime Detto questo iniziamo come detto in precedenza e partiamo proprio con i prodotti inviati da MedStore E vi parlo prima di tutto di questo qui Questo è un AVSBC e come vedete è anche leggermente diverso dal solito e particolare in un certo senso E l'ho utilizzato tanto, infatti questi prodotti li sto provando veramente da tanto proprio perché volevo capire l'effettiva bontà di questi prodotti Devo dire che sono veramente veramente ottimi Questo è un hub come detto in precedenza leggermente diverso dal solito Un po' particolare se così possiamo dire ma che è anche facile da capire perché ha questa forma E quindi intuire un pochettino la funzionalità in più che vi fornisce in un certo senso Perché appunto non solo vi permette di avere più entrate, comunque di aggiungere entrate al vostro MacBook Che sapete bene essere un qualcosa di essenziale Ma vi permette anche di avere una specie di stand Quindi un utilizzo leggermente più inclinato del vostro Mac Perfetto secondo me per la scrittura, per la digitazione Infatti devo dire che mi è risultato particolarmente utile in questo senso proprio Infatti lo mettevo sulla mia scrivania piccola, la giravo qui per la stanza e mi mettevo lì a scrivere E devo dire che mi ha dato tante soddisfazioni Ma è un qualcosa secondo me di molto utile anche nel caso in cui vorreste rendere la vostra postazione Il vostro setup un attimino più minimal e più ordinato Soprattutto lato cavi perché li nasconde molto bene e quindi veramente ottimo ragazzi Poi riesce a gestire bene tutte le entrate Ma che cosa vi fornisce in più? Beh, un'entrata HDMI, un'entrata DisplayPort, una Type-C aggiuntiva Tre USB TQI 2, 3.0 e una 2.0 Un'entrata LAN, un'entrata SD, una microSD, una VGA e un'entrata AUX Non si è fatto male ragazzi, state tranquilli È proprio l'entrata che vi permette di aggiungere le cuffie, no? Quelle col cavo Battuta bruttissima, ma potevo pure evitare Ho sbagliato pure forse l'intonazione Ma vabbè, volevo farla, ok? Andiamo avanti E quindi, perfetto ragazzi, veramente ben realizzato Alluminio nella parte superiore e anche nella parte sottostante Poi ha un piccolo stand aggiuntivo per iPad Che però non ho utilizzato tantissimo E quindi vi parlo semplicemente dell'utilizzo con Mac Che è secondo me veramente perfetto È un pochettino diverso dal solito Ci potrebbe assolutamente stare Tra l'altro se vorreste vedere un setup proprio con questo hub Fatelo sapere qui sotto nei commenti Detto questo andiamo avanti E vi parlo adesso di un altro prodotto inviatomi da MedStore E vi parlo di questo SSD Live C In questo caso parliamo di un SSD molto veloce Infatti ha una velocità di 540 MB per secondo Piccolo, portatile, perfetto Comunque è un'ottima soluzione nel caso di cui abbia bisogno di un SSD esterno Io lo sapete, ne ho assolutamente bisogno Perché ho un MacBook da 128 GB Quindi ho assolutamente bisogno di altro spazio Per archiviare file, foto, video, documenti, eccetera, eccetera E mi sono trovato molto molto bene Di solito utilizzo quelli di SanDisk Ma questo secondo me è un'ottima soluzione Anche per rapporto qualità-prezzo Quindi date un'occhiata al sito E poi abbiamo un LED Che ci indica appunto il collegamento al dispositivo E poi abbiamo l'entrata Type-C naturalmente Per collegare il dispositivo al MacBook E vi dico che in confezione Non solo esce un cavo USB-C, USB-C Ma anche USB-C, USB-C Quindi adatto praticamente a qualsiasi prodotto Detto questo andiamo avanti E vi parlo adesso dell'ultimo prodotto Che mi ha inviato, Mad Store Ma anche di quello che mi è piaciuto di più E lo sapete, ne vado fiero Cioè sono proprio fiero di questo prodotto Sono proprio fiero di questa tastiera E quindi mi parlo proprio della tastiera Tuneit Beh, ragazzi, è secondo me perfetta Perché non solo ha uno stile molto Apple Quindi è molto Apple Style Ma ha un'ottima corsa, dei tasti Un ottimo distanziamento Sta benissimo su una postazione Inizialmente non apprezzavo questa parte Diciamo aggiuntiva Perché di solito sono abituato ad avere Quelle tastiere belle compatte Come quella che ho alle mie spalle meccanica Ma adesso arriviamo anche a quella Non vi preoccupate Ma poi mi ci sono abituato Ed è veramente comoda E una cosa molto molto importante È Bluetooth alla Type-C Top per qualsiasi prodotto Ma, ancora più importante Ha la possibilità di collegarsi automaticamente E switchare Diciamo a tre dispositivi Quindi potete collegare la tastiera A tre dispositivi tramite il Bluetooth E poi switchare Per esempio passare da Mac a iPad Da iPad a iPhone E viceversa Ed è un qualcosa di molto comodo Per chi come me appunto Ha diversi dispositivi sulla scrivania E vuole controllare tutto Con un singolo prodotto E questa ragazzi è la perfezione Poi devo dire che mi ci trovo molto bene Ed essendo una tastiera a membrana Scusatemi È perfetta proprio per la scrittura E dico questo perché Qui alle mie spalle Vedete come detto in precedenza Una tastiera meccanica Che è perfetta per il gaming Anche per la scrittura Perché questa ha gli switch marroni Ma spesso è molto rumorosa E dà fastidio E quindi diciamo Alterno un po' le due cose E devo dire che Questa secondo me È una delle migliori soluzioni Se volete poi una tastiera In stile Apple E volete risparmiare qualcosina Ma avere anche qualcosina in più Questa potrebbe essere Un'ottima soluzione E poi con il codice sconto Che trovate qui sotto In descrizione Potete accedere a quest'ultima Con un prezzo veramente Super interessante E competitivo Dategli un'occhiata ragazzi Dategli una possibilità Perché è una bomba Detto questo Andiamo avanti Adesso torniamo a parlare di Hub E in questo caso Vi parlo di questo qui Questo piccolino qui Super compatto È un hub USB-C Di AOK Veramente comodo Perché appunto Piccolo e perfetto In mobilità Infatti magari potreste Prendere lui Per un utilizzo fisso Perché ha anche Molte più entrate Potete gestire un pochettino Il tutto In maniera più comoda Quando siete a casa E lui per la mobilità E devo dire che in questo caso È veramente ottimo Proprio per i suoi materiali Perché è tutto realizzato In alluminio Veramente bello resistente E mi piace proprio al tatto Grigio siderale anche in questo caso Ma è anche ottimo Perché ha un cavo Bello lungo Quindi potete essere Belli comodi Nell'utilizzo E poi ha ovviamente Diverse entrate utili Come quella LAN Quella HDMI SD Micro SD Type C Per la ricarica E poi abbiamo tre entrate USB Per collegare altri dispositivi USB 3.0 Veramente ottimo Ma comunque Devo dire Essere veramente fantastico Mi ci sono trovato bene Non dà problemi sul riscaldamento E quindi se cercate Un hub un attimino più economico Così O comunque per mobilità E quindi essere belli leggeri Questo potrebbe essere Un'ottima soluzione Sempre parlando di Ok Però ho altri tre dispositivi Da analizzare O comunque da consigliarvi E voglio partire da quelli Che mi stanno dando Più soddisfazione ultimamente Perché ho sostituito Praticamente Tutti i miei caricatori Con questi due Sono due prese da muro Super compatte Super potenti Ma utilissime Questa qui è un attimino Più standard Perché è classica Ma è USB-C E devo dire che funziona Veramente alla meraviglia È proprio Perfetta ragazzi Di ricarica veloce Trovate anche tutte le altre info Sempre qui sotto Potete approfondire Tramite i vari link Ma mi sono trovando Veramente molto bene Quindi ve la straconsiglio Ma Ancora più interessante È questa qui ragazzi Questa è Super compatta Super piccola È perfetta Non solo in giro Ma anche in casa Perché non prende Praticamente spazio È perfetta E grazie poi A una tecnologia Utilizzata Riesce a derogare La giusta potenza Anche per la ricarica Veloce Quindi una bomba ragazzi E poi per il rapporto Rit a prezzo Che hanno questi due prodotti Dovete acquistarne 150 secondo me Veramente perfetti Se siete a ricerca Di una presa da muro USB-C Date un'occhiata a questi Perché sono la perfezione Poi sono bianchi Quindi perfetti Per chi come me Ama il bianco Ma ci sono anche Altre colorazioni Trovate tutto Qui sotto in descrizione Questo è il mio preferito ragazzi Proprio si può dire Il mio preferito Tra tutti i gadget Che avete visto Che vedrete anche Oggi in questo video Insieme alla tastiera Veramente ragazzi Perfetti Una cosa che invece Analizziamo spesso Su upgrade Che vi consiglio spesso E che adesso Vi mostro anche qui In video Perché effettivamente L'ho testata Un attimino più Accuratamente O comunque Ho testato Un attimino più accuratamente Questo mouse da gaming Sempre di AOK Questo è un mouse da gaming USB Veramente comodo Perché Ben fatto Realizzato in plastica Però ha la giusta dimensione Secondo me All'entrata Type-C Per il collegamento E per la ricarica V Con il cavo Quindi Top Ma una cosa ancora più interessante È che è super economico Quindi se siete a ricerca Di un mouse da gaming Economico Questo secondo me Può essere Un'ottima soluzione Può anche il suo software Per gestire un po' i colori Quindi veramente ottimo Io mi sto trovando bene Anche mio fratello Perché lo utilizzo Principalmente lui Nella sua postazione Da gaming Se così possiamo dire Se volete approfondire Potete trovare tutti i link Sempre qui sotto Per accedere poi Al video di tutto il mio setup Eccetera eccetera Ma devo dire che È un dispositivo Comunque un prodotto Super super valido E per il rapporto Qualità prezzo È praticamente perfetto Datevi un'occhiata Io ve lo consiglio sempre E l'avevo già provato Me ne sono fatto mandare un altro Per la postazione Quindi straconsigliato Fidatevi di me Per il prezzo È una bomba Detto questo Abbiamo finito? No Perché Diciamo che Nel mio cassetto Ho queste qui Che sono un paio di cuffie Ugreen Sinceramente Non so se vi ho già parlato Di queste cuffie Infatti per questo poi Alla fine Volevo mettervele Alla fine Ma Devo dire che Sono un paio di cuffie Proprio buone ragazzi Anche per il rapporto Qualità prezzo Sono veramente ottime Perché sono comode Hanno un buon isolamento Ma soprattutto Hanno un ottimo audio Ogni tanto le vado A ripescare dal cassetto Perché io qui Nel cassetto E non vi dico bugie Ve lo mostro proprio in live Ho quelle che sono Le cuffie Bluetooth Anzi True wireless Che utilizzo di più E sono queste qui Vedete Sono delle Tronsmart Poi abbiamo Le Pamu Scroll Poi abbiamo Le Aukeri Poi abbiamo Queste qui di Ugreen E queste Della Hyphen Quelle lì che vi ho mostrato Che non sono ancora Disponibili per l'acquisto Perché sono ancora in lancio Tutte queste cose fighe Potete anche approfondire il discorso Ma appunto In quella che è la mia selezione personale Ho anche queste qui E mi ci trovo molto bene Spesso le utilizzo E ve le voglio Riconsigliare se già ve l'ho fatto E consigliarvi se ancora non l'avete visto quel video Oppure Se ancora non l'avevo fatto Perché veramente ragazzi Non ce l'ho segnato da nessuna parte E non so nemmeno se già vi ho fatto un video Piccola mancanza mia Non ho segnato tutto Una bomba ragazzi Cavo E vi lascio qualche altra chicca Ma vi ricordo sempre Perché le mie preferite in assoluto Ambito economico E ambito completezza Sono queste qui Di trono smart Una bomba Guardate qui Bellissime ragazzi Comode E con un audio Spettacolare Quando mi alleno Spesso uso l'oro O Uso le iPods Non ve le mostro Perché ve le ho massate 150 miliardi di volte Quindi ne ho già nemmeno bisogno Detto questo Un bacione a braccio Per oggi è tutto Fatemi sapere cosa ne pensate Tanto un'occhiata alla descrizione E ci vediamo Domani Domani sì Domani perché domani è domenica Top giochi domani Quindi Qualità Ci vediamo Ciao Ciao